E' un'altra buona per tutti ragazzi bentornati in un altro episodio di Clash of Clans Bentornati Kiki Bestia, siamo finalmente tornati col Clash of Sclero perché ragazzi veramente sta succedendo di tutto e di più 99% Madonna E abbiamo riniziato un'altra guerra quindi oggi vi porto un attacco in guerra e se arriviamo ad almeno 6.000 spolliciate Vi porto altri due replay veramente epici, una sfiga della madonna proprio da Clash of Sclero Quindi spolliciate adesso, 6.000 like per il prossimo episodio con i replay che vi voglio portare perché ragazzi sono veramente replay della madonna Perché se forse hai perso i pe, i persi, i persi, i precedenti Vi lascio il link in descrizione per vedere i due replay con il 99% sullo stesso esatto avversario Ragazzi allora siamo disposti in questa maniera, siamo a 21.18 Avvisiamo gli altri che siamo online, siamo online Salutate Kiki Bestia Kiki Bestia Eccoli, eccoli, eccoli i campioni, i miei campioni Allora ci siamo, Bob oggi il capo clan ci ha abbandonato Ha fatto i suoi attacchi e è dovuto scappare E allora ragazzi partiamo subito con l'attacco E oggi sono un po' incerto, ho un po' paura per il semplice fatto che ragazzi devo dire siamo un po' nella cacca Perché ha un tipo di villaggio che a me spaventa tantissimo Non ha difese altissime però ha una disposizione che io veramente temo È una disposizione che l'audio proprio, soprattutto quelle aperte, quelle che tendono ad aprirsi Allora, pensavo di attaccare da questo lato qua Perché è sempre quello a favore con l'incastello del clan vicino per eliminare subito le truppe Andrò con una gowiwipe Perché la gowipe normale non mi convinceva Per il semplice fatto che è troppo vasto come villaggio Lo proviamo e proviamo, andiamo Andiamo, ci sono tutti Attacchiamo Utilizzerò tre golem Perché là, essendo molto esteso Voglio coprire bene tutti i maghetti Quindi, andiamo così ragazzi Allora Carichiamoci veloci Ok Ci siamo Non c'è Mr. Rambo Ma non me ne frega un cazzo Perché Black è tornato più cazzo Ho partito il tempo Oh mio dio Non perdiamo tempo Non perdiamo tempo Non perdiamo tempo Sganciati i golem Vai così Vai così Che covestia Vai così Così Bene Bene Vai così Veloci ragazzi Veloci Sto tremando Sto tremando No 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 Siete finiti ragazzi Allora Allora Non ci sto capendo più niente Ha dell'incredibile Allora Onde evitare altri fail Andiamo dentro Andiamo dentro ragazzi Dai Bene così Bene così Bene così Vai così Vai così Vai così Vai così Bene 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 42% Ci siamo Non feliamo adesso Non feliamo adesso ragazzi Dai 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 Regina Non mi creppare adesso però Regina Non mi creppare adesso Regina Porca paletta Dove state andando voi Veloci ragazzi 1 minuto e 34 Non ce la faremo mai No 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 Veloci 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 Madonna Quanto siamo lenti Quanto siamo lenti Cazzo Minuto e 20 Spero di farcela ragazzi Tremando Sto tremando Dai 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 Cazzo però Madonna che lentezza Dio po' Che lentezza Andiamo cazzo Dai 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 così Veloci Veloci Madonna Che lentezza In tre punti diversi Attaccate qui Ma come si fa Dai Cazzo Guarda che mi buttano Già anche lui Dai 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 Regina Veloce Veloce 34 Secondi Dai Voglia Dai 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 Va bene Va bene Va bene Veloci ragazzi Veloci 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 Non ci facciamo ammazzare Non ci facciamo ammazzare da lui Dai 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 Di 18 secondi 18 secondi 15 E andiamo Andiamo Non ci facciamo ammazzare da lui Non ci facciamo ammazzare da lui Non ci facciamo ammazzare da lui Andiamo No già abbiamo vinto la coppa del mondo Basta con sto berlino E andiamo Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia E andiamo così 10.000 like voi Spolliciate porca puzzona Guarda che roba Mamma mia Vi lascio Vi lascio i commenti sotto Applausi In estasi E in estasi E andiamo Si Teniamo un pannello fa un assorbente Si Bene ragazzi Spero che vi sia piaciuto questo video Vi lascio con Lo spolliciamento E ovviamente Arrivando a 6.000 like Ragazzi vi porto Subito il prossimo episodio Con due replay Della madonna Tanto tantissimo Buona guagna per tutti Mr. Black Anzi Mr. Rambo Rocky Black Bimbo Black Vi saluto E tanta tantissimo Buona guagna per tutti